L'artrosi e i grandi dolori alle ginocchia, alle anche anche alle spalle, come si interviene oggi? Come si arresta questa artrosi? Il professor Riccardo Ferracini, ortopedia all'Università di Genova, ospedale Kelliker di Torino anche. Allora, i mezzi oggi con infiltrazioni di cosa? Le infiltrazioni sono generalmente fatte con acido ialuronico, con PRP e le vecchie infiltrazioni, il vecchio sistema con il cortisone che si è dimostrato non efficace a lungo termine. E le novità dove sono? Le novità sono nell'utilizzo del tessuto adiposo autologo, cioè dello stesso individuo, che viene aspirato, concentrato e poi infuso nelle articolazioni malate. Cosa si vede? Che vantaggi dà? Il vantaggio è una riduzione della sintomatologia dolorosa e soprattutto una riduzione dell'evoluzione dell'artrosi, perché l'artrosi si blocca e progressivamente rallenta. Ma queste infiltrazioni di cellule staminali, prese dal grasso del stesso individuo, possono essere fatte una sola volta. La novità di oggi è che il tessuto adiposo prelevato dall'individuo può essere congelato e poi progressivamente sgelato e reinfuso nel tempo. Quindi il paziente viene sottoposto al trattamento, il trattamento gli dà la prima somministrazione dell'estratto contenente anche le staminali autologhe, staminali adulte e poi nel tempo può essere sottoposto a successivi trattamenti infiltrativi.